Nella mia giornata ci vorrebbero 36 ore, le partite di calcio, MasterChef, Fox Crime. MySky è assolutamente il mio piccolo assistente, riesco a riguardare le cose che di giorno non riesco a guardare. Una volta stavo portando mio figlio in piscina. Mamma, ci siamo dimenticati di registrare il wrestling. Prendo il mio smartphone, applicazione e guida tv, registro a distanza. Se io non avessi MySky, la testa mi fa bum 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 bum. Solo con MySky la tv è davvero ai tuoi comandi. Metti in pausa i tuoi programmi preferiti, anche in diretta. Puoi vederli e rivederli quando vuoi. E registrarli anche da smartphone, tablet e pc. Per avere subito l'esclusivo MySky, vieni su sky.it e scopri MySky.